Fervono i preparativi per Arte Mista. Umberto, come è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata seguendo la pagina di Artisti e Pittori Fanesi, che è una pagina Facebook nata nel pieno lockdown, quindi in aprile del 2020, che io insieme al mio amico Samuele Bertini abbiamo creato questa pagina, dove ci potesse essere la possibilità da parte di tutte le persone che sono appassionate di arte fanese e in più hanno anche opere di Artisti Fanesi all'interno di casa, delle loro case, e in più da coinvolgere anche gli artisti, perché tra di noi nel tessuto sociale ci sono tantissimi artisti che sono pittori, scultori o artisti che fanno grafiche, che ci danno la possibilità di raccontare la creatività in generale. Ad oggi quanti sono i membri della pagina? Nella pagina d'oggi contiamo 2500 membri, perché la pagina è nata con un tam tam mediatico molto molto veloce, un po' la curiosità, un po' la voglia di arte, perché l'arte è sempre una cosa che ci dà la possibilità veramente di alleggerirci anche un pochino la testa, se vogliamo, e di curiosare all'interno delle case di tutti i fanesi per cercare di capire che cosa c'è, e quindi siamo arrivati a questo bel numero oggi. Artemista invece quando si svolgerà e come verrà strutturato l'evento? Artemista è la prossima mostra che avremo, la faremo in piazzale Cleofilo, che sarebbe davanti all'ingresso della chiesa del suffragio, dove poi utilizzeremo anche lo spazio all'interno della chiesa del suffragio. Quali saranno gli artisti in esposizione? Gli artisti in esposizione saranno Corsaletti, Generali, Marano e Palazzi. Ok, quindi sono quattro artisti che non sono, ahimè non sono più tra noi, però c'è la possibilità di ricordarli con le loro bellissime e importanti opere. Vi aspettiamo presso piazzale Cleofilo, con ingresso alla confraternita del suffragio, nella settimana che va dal 13 maggio fino al 20 di maggio, negli orari che sono dalle 18 alle 22. Una raccomandazione, se volete vedere una cosa veramente carina, il giorno dell'inaugurazione, quindi il 13 di maggio, alle 18 ci sarà un plein air di 18 artisti contemporanei che lavorano, dipingono lì di fronte alla chiesa. In più, una cosa molto importante, vorrei ringraziare a tutte le società e le persone che si sono adoperate a titolo completamente gratuito per la realizzazione di questa iniziativa. Vorrei ringraziare soprattutto il Comune di Fano, e in particolar modo Cora Fattori e Etienne Lucarelli.